Benvenuti su MeteoGiuliacci.it, oggi martedì 15 maggio, ancora bel tempo su quasi tutta l'Italia, a parte un po' di nuvole che insisteranno sulle regioni del medio e basso versante adriatico per l'insistenza di un vortice di bassa pressione presente sulla Baikana. Peggiora invece inserata sulle Alpi per l'arrivo dalla parte più avanzata di una perturbazione che scenderà dalle isole britanniche. Andiamo a vedere l'immagine dei satellite, vedete ancora la nuvolosità che interessa le regioni meridionali legate al vortice di bassa pressione che ormai si è isolato sui Balcani, mentre la nuvolosità che vedete sulla Francia appartiene alla parte più avanzata della perturbazione che giungerà questa sera a ridosso delle Alpi. Ma andiamo a vedere allora che tempo farà nella giornata di oggi? Beh, al mattino bel tempo al centro-nord sulle due isole maggiori, a parte un po' di nuvole sulla Liburia. Nuvole invece sulle regioni meridionali peninsulari con qualche debole pioggia sul Foggiano. Nel pomeriggio la situazione, vedete, non cambia di molto perché ancora avremo cielo sereno, poco nuvoloso sulle due isole maggiori al centro-nord. Ancora un po' di nuvole invece sulle regioni meridionali con qualche isolato temporale sull'Appennino meridionale. Vediamo adesso le temperature. queste saranno in aumento di 3-4 gradi sulle regioni di nord-est proprio grazie al ritorno del sole e saranno per lo più comprese tra 19 e 22 gradi su tutta l'Italia. Bene, concludo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro ancora un buongiorno.